Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Eeeh, salve gente, ben ritrovati in questo nuovo video di Clash Quest. Come vedete sono andato molto avanti col profilo, ve l'avevo promesso questo video in cui vi andavo a spiegare un po' come funziona il gioco. Io ho già sbloccato tutte le opzioni presenti all'interno del gioco, il mio mazzo è talmente questo, Archeri al 5, Barbari al 4, Stregoni al 4, Principe al 4, Gigante al 4, Goblin al 3, Fibor quasi al 5, Swap e Chair. Gevo sbloccare Rocket, Retreat, Pekka, Zap, Rush, Bomber, Log e Baby Dragon. Andremo a sbloccare pian piano andando avanti all'interno di questo profilo, vi porterò dei gameplay all'interno del canale, quindi attivate la campanella e iscrivetevi se non volete perdere nessun tipo di gameplay. Vi faccio vedere un po' come funziona il gioco perché la scorsa volta ve l'ho fatto vedere ma in modo molto parziale. Questa è la lista, amici, che sono tutti coloro che sono collegati al Supercell ID, come vedete appunto questa qua è la mia lista, amici. Non sto giocando molto attualmente al gioco perché sono abbastanza bloccato e non riesco più ad andare troppo avanti all'interno di questo video, però comunque proveremo ad andare avanti, non ci tiriamo indietro riguardo a nulla. Come vi ho detto, una volta arrivate a 20 stelle avete la possibilità di shoppare, di avere lo shop, uno shop che si ricarica ogni giorno, in particolare a me si ricarica fra 4 ore e 20. E avete degli oggetti esclusivi come alcune abilità, io come vedete ho trovato all'interno delle casse l'abilità Firebow che ho adesso al livello 2, poi c'è l'abilità Wizard, c'è l'abilità del Gigante. Insomma ci sono varie abilità che per ogni tipo di personaggio potete avere, inoltre ci sono anche alcune cose che arriveranno gratis ma dovete aspettarle all'interno dei prossimi giorni. Quindi mi raccomando iscrivetevi per non perdervi nessun tipo di novità, questa è la sezione League dove oggi andremo a fare il nostro attacco, quindi mi raccomando guardate tutto fino alla fine del video. Questa appunto come funziona, adesso ve la spiego subito, avete un free trial giorno, ogni giorno avete un token per attaccare, questa è la classifica, io sono esattamente 26esimo in Platino 3 attualmente. E in realtà sono stato secondo per un po' di tempo, considerando che non ho ancora attaccato, oggi andremo ad attaccare per vedere come work al tutto. Facciamo un semplice attacco, vi spiego un po' come si gioca sull'iPad perché l'altra volta vi avevo fatto un gameplay sull'altro profilo che non era ancora il mio. Allora usiamo subito gli stregoni per andare a danneggiare da quella parte di là, utilizziamo un altro stregone per continuare a danneggiare, molto probabilmente ci arriveranno un sacco di danni che non dovrebbero però sancire la morte di nessuna nostra truppa, ecco appunto. Utilizziamo subito un doppio principe per andare a danneggiare quella torre dello stregone e con un barbarello molto classico, questo qua che deve andare a morire, andiamo ad andare di là per uccidere la torre dello stregone. Diciamo che come situazione possiamo essere sicuramente messi peggio, col gigante togliamo semplicemente di là e adesso si potrebbe fare una cosa del genere usando tutti questi principi ma secondo me non è la cosa che conviene fare al mille per mille, misurabilmente perderò un gigante, non lo so, adesso vediamo cosa riesco a fare, sacrifichiamo il nostro arcerozzo e ricarichiamo con altri tre arceri, i barbari direi di fare una combo per fare fuori il nostro mortaio, l'arco X targetta il gigante quindi no problem, andiamo così, pam, e poi andiamo così. E via, arco X è andato giù quindi ci siamo, ci siamo sicuramente, carichiamo con sette stregoni e adesso io direi di fare un nostro attacchetto che secondo me sicuramente ci può stare, ossia ragazzi facciamo così e facciamo partire tutti i principi alla riscossa, cercando di fare più danni possibili, ne ho fatti abbastanza, sono anche abbastanza contento del risultato che ho ottenuto, a questo punto direi di utilizzare i nostri stregoncelli per far fuori il mortaio, hittare l'arco X e il cannone e allo stesso tempo dobbiamo un attimo ragionare sul da farsi perché qua in realtà noi con due barbarozzi togliamo la vita dell'arco X e una vita dello stregone e così poi in teoria senza troppi problemi riusciamo a far fuori anche le murozze dietro quindi riusciamo a penetrare anche poi successivamente. Carichiamo probabilmente con 5 barbari, qua facciamo così, quindi senza troppi problemi, non ci togliamo troppi problemi, facciamo così, togliamo anche arco X torre dello stregone, abbiamo tolto praticamente tutto devo dire e qui semplicemente andrò a fare un po' di pulizia con i nostri stregoncelli, addirittura potremmo fare una roba del genere facendo una 6 per combo, sì, io direi di farla così almeno ci togliamo il problema perché questo arco X è molto molto forte e ce lo siamo tolte almeno, siamo a posto. Ho caricato con due arcieri da dietro sperando che appunto tutto ciò possa funzionare, carichiamo con le fireball e adesso mi sa che è arrivato il momento di utilizzarle perché non sono molto organizzato per questo livello, ve lo dico sinceramente, quindi andiamo a cercare di pulire il più possibile, con gli stregoncelli facendo una roba del genere in teoria dovrei completare il livello, se non erro, se non ho sbagliato, praticamente sì, andiamo ad utilizzare i tre semplici arcierozzi per togliere tutti e due l'arco X. Siamo alla stage numero 4, direi di pompare con 5 stregoni, 5 stregoni secondo me potrebbero essere la soluzione corretta per questo tipo di livello, farei così, andrei ad attivare un'altra fireball e andrei di nuovo a tirarla qua sopra, molto probabilmente conviene, e con questo in teoria dovrei senza troppi problemi far fuori il tutto, se non erro, allora, pensavo fosse più semplice, partiamo da questo presupposto, forse conviene farmi una roba del genere, non so effettivamente se ha senso quello che ho appena fatto, e in teoria senza troppi problemi, ah no, però aspettate, allora facciamo così, togliamo l'arco X con un razzetto e andiamo assolutamente a fare una cosa simile, quindi andiamo ad usare gli stregoncelli di là e a caricare semplicemente con il barbarozzo di là, quindi abbiamo fatto 5 stage, non male come situazione, sicuramente poteva andarci meglio, ma poteva andare anche sicuramente molto molto peggio, qua molto probabilmente ragazzi la perdiamo a mani basse per il semplice fatto che appunto non abbiamo truppe, posso togliere con la torre dello stregono quella cosa là, ma è difficilissima. New High Score per noi, 5 stelle, abbiamo un sacco di pauli, quindi un big box opening su Clash Quest ragazzi, primo box opening effettivo su Clash Quest, troviamo un sacco di roba, le apriamo tutte, così almeno poi facciamo un riassunto finale, abbiamo trovato ben 1342 monete, un elisir per i barbari, un elisir per i principi, due elisir per gli arcieri e due goblincelli, quindi ottimo bottino per noi ragazzi, siamo anche saliti su nella parte superiore, stiamo tenendo, devo dire che stiamo tenendo il colpo, la media più o meno è sempre stata quella sulle 5, tranne la giornata numero 3, la giornata numero 4 che ho fatto soltanto 3, forse molto probabilmente per errore mio, ma ragazzi non vi preoccupate che sicuramente torneremo più forti di più. Detto questo, io spero che questo video molto veloce vi sia piaciuto, devo dire che è stato abbastanza movimentato perché avevo l'attacco da fare in league, quindi vi ho fatto vedere un po' come gioco io, abbiamo fatto 5 partitine perché alla fine abbiamo vinto 5 livelli, se volete vedere altri video su questo gioco mi raccomando fatemelo sapere attraverso un big pollicione all'insù perché se no ragazzi io non vi posso aiutare e niente, noi ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni, questo è sicuro, molto probabilmente ragazzi vi porterò anche dei video di Clash of Clans, fatemi sapere se questa idea vi possa piacere attraverso i commenti, ciao ragazzuoli! Ciao!